Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, canale 99, buongiorno anche a chi ci segue in streaming NettunoTV.tv Benvenuti alla nostra rassegna stampa in questo martedì 6 marzo del 2018. Sono Francesco Spada, l'Italia allo stato attuale non ha un governo, ora partono ovviamente le consultazioni ma nessuna delle forze politiche dopo il conteggio di tutte le decine di migliaia di sezioni e ovviamente milioni di schede elettorali che è finita solamente ieri nel tardo pomeriggio, ormai la situazione è molto chiara e quindi questo è il punto da cui bisogna ripartire. Ci sono sul tavolo delle dimissioni di Renzi ma non potremmo dire esecutive perché di fatto ha detto la crisi di governo la gestisco io poi una volta che si è insediato il governo andrò a occupare il mio posto da senatore, un po' di reazioni all'interno del partito su questa decisione ma soprattutto diciamo in vista del fatto che sarà difficile poter formare un governo e quindi vedremo quello che succede l'ipotesi del governo tecnico per rifare la legge elettorale e riportare il paese alle urne, questa è diciamo in qualche modo la situazione che si prospetta davvero una legge elettorale che si è rivelata tra virgolette diciamo così un po' sciagurata, poco efficace ma soprattutto anche il voto degli italiani che in questo momento è esattamente diviso tra tre realtà e in modo particolare si sta concentrando sul centro-destra alla fine del risultato finale 37% e sui grillini un 32,8% ma vediamo anche quello che è successo ovviamente a Bologna tra vinti sconfitti e quant'altro andiamo a leggere il terremoto, questo è il titolo dell'arresto del Carlino di Bologna affittasi in canone concordato per ultima legislatura 5 anni più 5 anni, rivolgersi a Renzi scherzano i grillini, l'hanno affisso sulla sede del Partito Democratico Bugani dei 5 Stelle, impresa storica saremo l'unica alternativa Borgonzoni della Lega Nord, la Lega è trasversale, ora può fare la differenza Appennino e Pianura al centro-destra, il voto comune per comune shock PD, il caso segreteria, Camera e Senato, i promossi ed i bocciati e poi c'è anche spazio alla cronaca, non solo la politica sulla prima pagina del Carlino di Bologna aggredisce gli ex colleghi e tenta di rapinare la pizzeria pretendeva stipendi arretrati non dovuti, da inescandescenze, da Pino arrestato e poi a Loiano c'è del tetto dell'ospedale, paura al centro di Alisi sono stati tutti trasferiti al Bellaria e poi sabato Cristina D'Avena torna con i Gemboy a Estragon pieno Repubblica, prima pagina, l'Emilia è leghista e grillina il PD perde la sua cassaforte, probabilmente Repubblica mai si sarebbe aspettata di fare un titolo del genere gli anni scorsi, il PD perde la sua cassaforte, da Ferrara a Parma, da Piacenza a Rimini tutti i colleghi al centro-destra, Movimento 5 Stelle è il primo partito dai Prodiani a Liberi Uguali, la sinistra va a K.O. Zampa puniti dalla scissione perché Sandra Zampa, la storica portavoce di Romano Prodi, è rimasta fuori dal Parlamento Errani passa, Bersani in bilico, 10 grillini in Parlamento Errani passa non nel collegio uniminale nella sfida ma in realtà perché era anche all'interno del listino proporzionale si era in qualche modo garantito un paracadute sinistra al bivio, cambiare o sparire, Giovanni Egidio, direttore di Repubblica di Bologna che firma il commento sulle pagine del quotidiano andiamo a leggere anche come titola la prima pagina il Corriere di Bologna Lega, Movimento 5 Stelle, le media del PD non c'è più l'esito del voto è un terremoto, in regione i grillini sono primi ma la maggioranza del centro-destra 31 eletti con il boom della Lega, 25 per idee ma avanti nell'uninominale Bologna resiste la ridotta Democrat cioè effettivamente diciamo a Bologna è rimasta un po' la roccaforte del Partito Democratico anche se anche a Bologna città il consenso si è notevolmente ridotto e poi territorio normalizzato, finite le rendite di posizione le Valbruzzi del Cattaneo, è evidente che l'alternanza è un fatto positivo laddove ovviamente chi si alterna abbia le determinate qualità così come chi governa, quindi cambia poco in questa regione effettivamente è sempre attrazione rossa adesso qualcosa è cambiato per cui vediamo è chiaro che in questo momento non è che sono cambiate le guide dei comuni né tantomeno della regione, c'è ovviamente un'area diversa che ora queste forze politiche oggi all'opposizione tenteranno di capitalizzare per tentare poi di arrivare al governo della regione il brusco risveglio del PD ha zoppato ed è già dopo Renzi il carroccio esulta la Piacenza-Rimini, Forza Italia fa il 10% il movimento sfonda i suoi candidati no obiettivo regionali e poi ancora maltempo, chiesto lo stato d'emergenza c'è anche un po' di cronaca oltre alla politica sui quotidiani neve, gelo, smottamenti, interessati 60 comuni Gaggio Montano, la frana non si arresta e poi il trapianto del menisco che ressuscita il ginocchio benessere sempre tra le pagine del quotidiano Di Vaio Sprona destro saprà riscattarsi ancora da questa prima pagina del Corriere di Bologna andiamo però subito direi all'interno delle pagine del resto del Carlino che ci dà un po' con chiarezza quella che è stata la situazione anche elettorale intanto questo è il titolo, geografia politica, l'assedio alla città rossa regge a fatica l'enclave del PD in provincia dell'Espluadi, leghisti e 5 Stelle Marco Valbruzzi, la diminuzione non è, non è la distinzione, scusate dice Valbruzzi di che del Cattaneo, il studio Cattaneo non è tra elite e popolo ma tra chi è al centro e chi si sente abbandonato Emilia Leghista, l'intervista a Lucia Borgonzoni è solo l'inizio, Lucia Borgonzoni, risultati incredibili in pianura e sull'Appennino deve essere il centrodestra a provare a fare il nuovo esecutivo intesa con i grillini, la vedo molto dura poi dall'altra parte gli altri vincitori Di Maio, presto crollerà anche Merola Bugani, Movimento 5 Stelle, Gusto è il trionfo Rimborsopoli ci ha portato consensi sicuramente io mi auguro che finalmente qualcuno cominci a fare un esame proprio anche sulla comunicazione su come fare comunicazione ma questo non solo il mondo della politica ma anche tutti i media che diciamo sono schierati contro il Movimento 5 Stelle che su Rimborsopoli hanno fatto paginate di giornali interviste, come dire, editoriali e quant'altro ma in realtà effettivamente questo Bugani ha ragione gli ha portato consensi perché un attacco così indiscriminato senza ragioni poi alla fine le persone come dire, vengono a volte spinte proprio a dire beh allora lo voto, lo voto nel senso che se effettivamente questo grande quotidiano attacca loro allora io lo voto quindi dei meccanismi particolari che tra l'altro hanno sempre funzionato benissimo con Berlusconi Berlusconi più è stato attaccato e più otteneva risultati elettorali importanti recentemente dove effettivamente tutti si erano concentrati ad attaccare la Lega e i grillini guarda caso hanno avuto il massimo dei voti e Berlusconi invece è crollato è un meccanismo strano però la comunicazione bisogna saperla fare, bisogna saperla gestire poi ancora eletti conferme e sorprese queste ancora le pagine del resto del Carlino che entra appunto nel merito poi dei vari collegi uninominali tra Camera e Senato poi andremo anche noi un po' a sfogliare entrare nel dettaglio della situazione ma prima andiamo insieme a sentire un commento ieri mattina a Pierfredinando Casini a passeggio per Bologna con il figlio tra l'altro ieri sera è stato anche ospite sono stati ospiti tanto lui quanto il figlio della nostra trasmissione 99esimo minuto dedicata allo sport al calcio dal Macron BFC Store di Galleria Cavour ma detto questo ieri Casini in Piazza Maggiore ha incontrato la stampa per fare un po' il punto della situazione contento per il suo risultato grato alla città di Bologna ma ovviamente dice siamo usciti sconfitti andiamo alla sentina dell'intervista di Mario Giulianti Innanzitutto voglio ringraziare Bologna grazie Bologna grazie ai cittadini bolognesi che dopo tanti anni in Parlamento mi hanno rinnovato ancora una volta la loro fiducia e la loro stima sarò il senatore di Bologna sarà il mio primo impegno nei prossimi anni quello di rispondere a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato convincerò spero anche coloro che non mi hanno votato c'è bisogno che i parlamentari rispondano al territorio ho fatto un tuffo nel passato e è andata bene tutto sommato in un contesto molto difficile gli elettori vanno sempre rispettati queste sono le regole della democrazia si vince e si perde abbiamo perso abbiamo perso e pertanto chi ha vinto a partire dai 5 Stelle e da Salvini se lo sanno fare oggi hanno la responsabilità di fare una proposta per il governo del paese hanno vinto sulla protesta oggi hanno il dovere se ne sono capaci di avanzare una proposta di governo per il paese per cui auguri a loro e al nostro paese soprattutto no non l'ho sentito ma mi auguro che nel partito democratico oggi è necessario che sia così sia il momento della riflessione non della resa dei conti perché la resa dei conti non serve a nessuno la riflessione serve a tutti a partire da sottoscritti e adesso andiamo a leggere anche i titoli nazionali questo è avvenire ieri non eri in edicolo di edicola come di consueto i colleghi di avvenire non lavorano il giorno di domenica oggi invece sono in edicola regolarmente ed ecco il titolo cambio di quadro Movimento 5 Stelle primo partito centrodestra prima coalizione ma senza maggioranza Lazio vince Zingaretti Lombardia Fontana dalle urne scenario profondamente mutato Di Maio noi veri vincitori ma pronti a dialogare con tutti Salvini superata Forza Italia adesso il leader sono io Mattarella ci dia l'incarico perché effettivamente comunque la coalizione di centrodestra con il 37% che di fatto ha vinto queste elezioni anche se poi non ha la maggioranza perché è una vittoria come dire di fatto poco di poco consistente hanno vinto ma non possono governare da soli crollo PD Renzi si congela staremo all'opposizione le reazioni il segretario lascerà una volta nato un esecutivo poi primarie bufera intanto nel partito che non hanno diciamo così apprezzato volevano cacciare presto Matteo Renzi però ricordiamo che comunque il 18,8% il 19% ha comunque votato il partito democratico ha comunque votato il progetto di Matteo Renzi l'Italia colorata in giallo-blu è divisa a metà poi tre possibili vie per il governo e il rischio rivoto l'Europa invita la calma sguardo intanto al Colle adesso Mattarella che si era ampiamente preparato ovviamente a queste ipotesi probabilmente l'unica cosa che era un po' sfuggita dai radar del centro-sinistra era la forte sconfitta ecco sicuramente i liberi uguali non avevano intuito che non basta essere presidenti delle due camere avere un po' di telecamere fotografi e un po' di stampa in giro qualche battuta di mani per poter immaginare di avere una forza politica dal 6 all'8% quindi è il centro-sinistra il partito democratico probabilmente si aspettava di andare sopra il 20 si è trovato a andare sotto quindi un po' i calcoli li ha sbagliati diciamo più il centro-sinistra probabilmente però è chiaro che Mattarella era ben preparato al famoso pareggio però come sappiamo è vero perché poi è emerso chiaramente qualora ci fosse stato nel centro-destra una Forza Italia con un certo risultato superiore alla Lega e nel centro-sinistra un partito democratico al di sopra del 20 22-23 e quant'altro sicuramente sarebbe nato il governo di larga intesa a cui si erano un po' preparati tutti e forse anche con questa legge elettorale andavano in quella direzione ma in realtà poi come dire fortunatamente diciamo il voto sta alle persone l'elettorato gli elettori sono andati a votare hanno decretato una cosa diversa soprattutto hanno messo in luce la debolezza della legge elettorale e soprattutto che non bisogna sempre immaginare di fare come dire qualcosa di intermedio comunque vediamo certo il risultato è che non c'è nessuno che ha la maggioranza una poltrona per due il titolo bello carino del QN il resto del Carlino Salvini rivendica l'incarico nessuna intesa strana voglio governare con il centrodestra ma c'è anche Di Maio dialogo con tutti daremo una guida all'Italia come sapete la percentuale che i partiti hanno ottenuto non sempre corrisponde tra virgolette al numero dei seggi per cui adesso la vera battaglia sarà andare a conquistare determinate posizioni all'interno del Parlamento quindi non bisogna solamente sommare un partito all'altro però magari Salvini del centrodestra può andare a pescare quegli ex centristi quegli ex del centrodestra che occupano alcuni seggi all'interno del Parlamento della Camera e del Senato per cercare di fare la maggioranza queste sono le ipotesi stessa situazione anche per i grillini questa comunque è il QN resto del Carlino crollo PD Renzi lascia ma gestisco io la crisi mezzo partito si ribella poi andiamo sulla prima pagina di Repubblica che ci fa vedere l'Italia com'è cambiata l'azzurro ovviamente è il centrodestra il giallo è il colore dei grillini e il rosso è il centrosinistra vedete come effettivamente la situazione sia stata piuttosto complicata dalle cose da ieri milioni di persone di sinistra sono anime senza corpo è vero siamo all'anno zero ma proprio da qui dobbiamo ripartire queste elezioni costituiscono un passaggio d'epoca hanno rivoluzionato i rapporti tra i partiti e la geografia del paese i nuovi colori dell'Italia questo è ancora il titolo colorato diciamo così da parte di Repubblica andiamo sul Corriere della Sera Renzi non lascia subito l'ite nel Partito Democratico dimissioni dopo il nuovo esecutivo nessun patto con gli antisistema Di Maio apre confronto con tutti Berlusconi tocca al centrodestra Salvini ho il diritto dovere di governare Zingaretti intanto annuncia la vittoria nel Lazio 33,9 sul 30,4 anche qui un testa a testa mentre non c'è stato testa a testa in Lombardia dove Fontana ha portato a casa il 53,2% contro il 26,6 di Giorgio Gori colpirò un uomo a caso migrante ucciso a Firenze sempre da questa prima pagina del quotidiano e poi ancora tra il Movimento 5 Stelle e Dem l'asse dei dubbi sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera pronta la stampa metà gialla metà verde la rivoluzione italiana nella roccaforte del leader del Movimento 5 Stelle ci restituiscono la speranza fra gli operai stregati dal capo della Lega ora giù i tassi via e via gli immigrati irregolari e poi governo Di Maio cerca alleati nel Partito Democratico Renzi annuncia le dimissioni e pone il veto mai voti ai populisti Salvini vede Berlusconi tocca a me il segretario lascerà dopo la nascita del nuovo esecutivo faremo opposizione ma una parte dei suoi lo critica e guarda al Movimento 5 Stelle probabilmente diciamo questa operazione che sta facendo Matteo Renzi già in qualche modo ha diciamo emarginato la componente più estrema di sinistra del Partito Democratico che è uscita sicuramente poi ne ha pagato forse ancora ancora diciamo qualche strategia nel mirino il capo del PD allora andiamo anche sul giornale titolo carino anche in questo caso sinistra game over sprofondo rosso Renzi finge di dimettersi e finisce sottotiro PD esploso spariti liberi uguali Salvini ad Arcore giura fedeltà al centrodestra Lombardia destra show Fontana vince di 20 punti e poi D'Alema guida l'esercito dei trombati fuori pure De Falco Civati e Formigoni da Minniti alla Boldrini c'è anche chi è eletto da sconfitto ma che allarme l'onda nera era una bufala ossessione infondata radical chic voce del verbo rosicare presidenti perdenti scusate ma superiori questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano bene allora a questo punto noi torniamo invece sulle pagine scusate sulle pagine dei quotidiani dei quotidiani locali e quindi tornerei subito sul resto del carlino di Bologna dopo la carrellata nazionale andiamo a leggere anche qui il titolo appunto si scherza andiamo a vedere un po' nei diversi collegi se avete voglia andiamo un po' insieme allora Casini sbanca Bene Critelli e De Maria Balboni e Labernini vanno a segno questo è un po' il quadro allora al plurinominale del senato i democratici mandano a Palazzo Madama l'ex sindaco di Imola Daniele Manca l'ex sindacalista Teresa Bellanova Ernesto Carboni al terzo posto spera ora nel ripescaggio ma non è sicuro per il plurinominale dalla Camera i renziani riescono ad eleggere sia Carla Cantone che Luca Rizzo Nervo Giuditta Pini invece dovrebbe essere ripescata a Ferrara anche Vasco Errani sconfitto da Casini potrebbe rientrare passando al centrodestra invece fa festa Alberto Balboni che ha fatto l'impresa all'uninominale del senato tra Bologna e Ferrara i berlusconiani mandano a Palazzo Madama anche la capolista del plurinominale Anna Maria Bernina e Bernini anche il bolognesissimo Galeazzo Bignami dovrebbe guadagnare un posto a Roma grazie al buon risultato in Romagna la Lega forte di un risultato clamoroso manda al senato Lucia Borgonzoni mentre alla Camera va il sindacalista del SAP Gianni Tonelli tra i vincitori ci sono anche i 5 Stelle che tra Camera e Senato confermano Matteo Dallosso e Michela Montevecchi tra le novità Alessandra Carbonaro e Marco Croatti Giulia Sarti invece cinque anni fa era stata eletta a Bologna questa volta era capolista a Rimini in Riviere e si è guadagnata una nuova legislatura in Parlamento questo è un po' il quadro della situazione nei collegi della sfida diciamo così più teoricamente più accesa più divertente quella dal senato tra Casini Errani Brunelli e Montevecchi vince Casini col 34,15% Errani si ferma all'8,66% quasi un 28% per Elisabetta Brunelli e poi ancora Cerse Soverini che appunto entra per quanto riguarda sempre centosinistra insomma questo è un po' il quadro Benamati e poi Andrea De Maria ieri sera ospite del nostro tre giornale Francesco Critelli segretario del partito ancora un po' di dichiarazioni qua e là che prendiamo Critelli ce la fa ora il nodo segreteria dopo la vittoria nella bassa si riapre la corsa alla successione di Via Rivani dove effettivamente però era stato detto che sarebbe rimasto Critelli sarebbe comunque rimasta la guida anche del partito il problema è che nella bassa anche Critelli c'è stato un vero e proprio testa a testa con Vicinelli sindaco di Sant'Agata Bolognese del centrodestra è stata una battaglia fino all'alba decisivi circa 3.000 voti e poi ancora Benamati sul collegio sul collegio di Casalecchio i Dem devono ripartire dal modello Bologna e poi Serse Soverini usciamo molto indeboliti riconquistiamo gli elettori Andrea De Maria il legame con i territori ha fatto la differenza la rivincita di Casini c'è poco da festeggiare per i Dem l'ora della riflessione poi Ivano Marescotti l'attore più volte impegnato direttamente in campagna elettorale dice alla sinistra non esiste più via il dialogo tra Grillini e Partito Democratico questo è un po' il tema dal lato del centrodestra ecco qui c'è Gianni Tonelli dice per i miei detrattori un bel boomerang elettorale è eletto il poliziotto voluto da Salvini conferma per Anna Maria Bernini il cuore rosso della regione ha cambiato colore dice poi c'è l'intervista a Galeazzo Bignami ci siamo presi l'Emilia Romagna a Galeazzo Bignami è stato eletto alla Camera un pensiero vale lotte di mio padre Bignami che inizialmente era rimasto un po' vittima di una politica di palmizio nella gestione delle cariche di alcuni paragadudati e invece si è ripreso davvero una grande rivincita Galeazzo Bignami che come dire al di là di un parere partitico è sicuramente una persona del territorio e poi il gioco dei resti inguaglia la De Girolamo annunzia De Girolamo e la guerra interna delle preferenze porta la capolista ad un passo dalla esclusione ovviamente questa sarebbe un piuttosto clamoroso lei ex ministro dell'agricoltura anche lei è stata parecchio sul territorio queste le pagine ancora per quanto riguarda i quotidiani io vorrei a questo punto cambiare per un istante argomento ma solo per un istante perché vorrei portarvi invece a questa intervista che abbiamo realizzato con l'assessore allo sport Matteo Lepore ieri durante la presentazione di questa iniziativa Bologna School League questo confronto di calcio tra scolaresche ma in realtà con lui abbiamo parlato anche di Palazzo dello Sport del Paladozza e di futuro andiamo a sentire l'intervista che ha realizzato Mario Giuliante molto importante innanzitutto perché è organizzato dai ragazzi delle scuole la seconda edizione il numero di scuole coinvolte è aumentato noi come comune vogliamo supportare queste iniziative l'abbiamo già fatto anche con il basket con Not in My House un'iniziativa che ha coinvolto decine di scuole di gruppi che si occupano di street basket e di pop in tutta l'area metropolitana insomma in questo momento c'è bisogno di stare vicini ai giovani dagli strumenti per poter realizzare dei progetti e su questo nuovo Paladozza cosa possiamo dire? stiamo realizzando un nuovo campo da gioco nei prossimi giorni lo inaugureremo dovrà essere pronto per la prossima partita in casa della Virtus perché è la prima squadra che giochi in casa e manderò delle foto nei prossimi giorni nel cantiere poi ci sarà una bella festa di inaugurazione con un evento penso in aprile per anche raccontare la storia del Palazzo dello Sport Allora questo è il passaggio appunto di Matteo Lepora ma allora andiamo a sentire anche le parole del presidente della Bologna School League si tratta di Giorgio Lissia che spiega appunto l'iniziativa sempre al microfono di Mario Giulianti questo è un torneo fra tutti gli istituti superiori di Bologna quindi è un torneo che mancava effettivamente in questa città mi immagino anche in tutte le altre città anche io quando ho frequentato liceo fino all'anno scorso ce l'havano detto ma perché non c'è un torneo organizzato magari c'era qualche partitella quindi c'è venuta voglia di organizzare un torneo appunto che ci fosse dietro un'organizzazione seria siamo molto felici dei risultati ottenuti in questa seconda edizione insomma già 330 giocatori siamo nati da poco più di un anno sono numeri oggettivamente importanti noi diamo anima e corpo in questo progetto siamo anche appoggiati da tutti i signori che ci sono stati alla conferenza quindi il fatto che ci fosse l'assessore Lepore Marco Di Vaio Avis, Macron Autoscuola e Sinergi significa che c'è un'attenzione nei confronti dei giovani per quanto riguarda un po' di dati un po' di informazioni dove come si svolgerà il torneo allora tutte le partite si terranno al campo di Via Valeriani numero 21 che è il campo della Virtus Tennis si gioca dal lunedì al venerdì dal 6 aprile al 30 aprile dalle 15 alle 19 quindi tutti i pomeriggi quest'anno ci sono 22 istituti di Bologna e provincia anche Casa Lecchio e Castelmaggiore per un totale di 28 scuole per un totale di oltre 330 giocatori quindi siamo appunto felici che ci siano tutte queste persone speriamo che tutto vada bene anche i prossimi anni di riuscire ad aumentare questi numeri e ora adesso torniamo sulle pagine invece di Repubblica l'Emilia è leghista e grillina il PD perde la sua cassaforte ancora all'interno così il PD si scioglie lungo la via Emilia e dimezza i suoi voti Calvano Renzi si è dimesso ora tocca a noi capire che fare Merola ci hanno dato un calcio nel sedere niente e scuse la trincena e la bassa i dem ridotti ad un enclave Bologna a Modena e Reggio Franceschini si durato al Senato va un ex Missino quindi i leader hanno perso anche nelle loro città si infrange l'onda di Renzi travolta da Forza Italia e 5 Stelle la Lega Nord fa il pieno poker tra Camera e Senato questa è ancora l'ipotesi poi ovviamente c'è chi vince e ovviamente dichiarazione dei vincitori e degli sconfitti l'avviso di sfratto dei 5 Stelle noi resistenti PD al Capolinea la Lega sorpassa e scalda le urne ci prenderemo anche la Regione Lucia Borgonzoni e poi ancora salvare il PD nel 2019 la missione di Bonacini il ruolo del governatore per traghettare il centro-sinistra le prossime elezioni regionali e lo stop di Mezzetti e poi Sandra Zampa è stata una tempesta perfetta ma Prodi non c'entra e infatti cosa dovrebbe centrare diciamo Romano Prodi Errani sconfitta storica adesso la sinistra riparta con spirito progressista questo Errani appunto che interviene su questo tema ma ci sono altre notizie sì ci sono anche altre notizie allora andiamo a pescare subito una che è anche in sulle prime pagine dei quotidiani ecco qui Centrale Adriatica in 15 a processo per le malattie dei lavoratori una sessantina di magazziniere fece denuncia e-mail e Camera del Lavoro parte civile in aula imputata anche l'amministratrice delegata di It Italy World Tiziana Primori e poi dopo la neve allerta pioggia paura gaggio per la mega frana che si è rimessa in movimento ancora dalle dalle pagine del quotidiano c'è quest'altro tema aggredisce gli ex colleghi superiamo un attimo tutta la fase ecco qui della politica anche qui c'è la notizia Facchini malati 16 a processo sono ex dirigenti di Centrale Adriatica fra cui anche l'amministratore di FICO Tiziana Primori e poi ancora donne investite in via Gigli l'autista rintracciato dopo la fuga in zona lunetta Gamberini è successo e poi 18enne si allontana da casa e sparisce i genitori sporgono denuncia aiutateci e poi ancora il fatto avvenuto nella pizzeria Pino di Viagoito scatena la sua furia in pizzeria ex cameriere picchia un collega e tenta una rapina da Pino Moldavo di 21 anni arrestato dalla polizia è stato subito liberato dal PM i gestori una vergogna 17 anni aggrediti in piazza Nettuno al vaglio ora i filmati sono stati fermati dei loro connazionali albanesi e poi ancora sempre dalla pagina del resto del Carlino c'è ancora ovviamente spazio per tutto quello che è successo andiamo a leggere invece l'intervista al segretario di Confartigianato Renzi un cognome che in questo momento probabilmente non è particolarmente in auge ora serve sto scherzando ora serve un governo stabile ci aspettiamo un dialogo costruttivo questo è appunto quanto dice il segretario di Confartigianato dell'Emilia Romagna e poi ancora il movimento sfonda nelle periferie questo è ancora il tema lanciato da Quotidiano ma il centro storico e i colli rimangono fedeli al centro sinistra bene la lista Bonino in questo territorio questo è ancora tutto quello che troviamo su questo tema andiamo ancora nelle pagine del Corriere di Bologna terremoto lungo la Via Emilia sorpasso storico del centrodestra la delusione dei prodiani fermi ad un povero 0,8% e con Sandra Zampa fuori dal Parlamento la mala vittoria Dem nell'ultima enclave all'ombra delle torri sempre il titolo del quotidiano e poi Casini a Roma se rido no il contesto è negativo in città il Partito Democratico tiene stop ai grillini ma perde 11 punti percentuali rispetto al 2013 che non sono davvero pochi ecco qua la Lega Nord il carroccio esplode anche in Emilia ci prenderemo Viale Aldomoro Borgonzoni va a Palazzo Madama ma resta consigliera verso Roma anche il poliziotto del SAP Gianni Tonelli e poi l'amarezza di Caracciolo Fratelli d'Italia ci aspettavamo qualcosa di più per quanto riguarda il movimento della Meloni Berlusconiani secondi e felici ma resta fuori De Girolo Mazzurri al 10% entrano Bignami Bernini Sgarbi e Bianco Fiore questo è ancora il tema il giorno più lungo dei Dem dopo Renzi l'ipotesi Bonaccini il quotidiano ripropone il pranzo alla casa del popolo di Renzi che era sicuramente in grande forma solo il 19% circa in qualche modo degli italiani ha compreso il suo piano e Rani non chiude al Movimento 5 Stelle vedremo l'ex governatore sconfitto da Casini entra in Senato grazie al proporzionale questo appunto Errani che si era garantito comunque un paracadute e ha rischiato anche che non si aprisse quel paracadute visto che effettivamente diciamo così Liberi Uguali è andato a di poco sopra il 3% che era lo sbarramento la soglia di sbarramento maltempo danni per 100 milioni di euro la regione Emilia Romagna ora lo stato d'emergenza Viale Aldomoro chiama Roma per la situazione di 60 comuni la stima di Coldiretti Gaggio Montano dove c'è la situazione più complicata la frana continua a muove se si teme per la ferrovia pronto un piano di evacuazione e poi ancora sempre da questa pagina lesioni ai facchini vertici coppi in aula processo anche Tiziana Primori amministratore delegato di Fico It Italy World poi si parla anche della CGL il congresso degli emiliani Colla e Landini per la segreteria l'ex leader FIOM e il sindacalista Piacentino puntano al dopo Camusso questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano ma noi facciamo un passo indietro torniamo a occuparci della scomparsa del giocatore della Fiorentina capitano Astori davvero un mondo del calcio in lutto ricordiamo anche le partite di domenica sono state tutte sospese ieri abbiamo incontrato Marco Di Vaio con lui abbiamo parlato il suo ricordo personale di Astori e poi ovviamente abbiamo parlato anche del prossimo impegno del Bologna quello con l'Atalanta lo ha intervistato Mario Giulianti ricordo della persona molto bello e come dicevo prima io l'ho avuto soltanto come avversario l'ho affrontato tante volte e di lui mi è rimasta sempre impressa la correttezza la realtà durante e la correttezza in campo e devo dire che tutti i messaggi che sono arrivati ieri durante la giornata presa la notizia dimostrano proprio questo della sua correttezza realtà onestà anche fuori dal campo quindi è un lutto che ha colpito tutti noi che facciamo parte di questo mondo chi ha avuto modo di conoscerlo come compagno chi ha avuto modo di conoscerlo come avversario però tutti noi siamo stati sconvolti da questa terribile notizia del ragazzo di 30 anni che lascia moglie e figlia in modo tragico e inaspettato e questa è una cosa che possiamo fare è unirci al dolore di tutti e ricordarlo con la massima correttezza e trasparenza Passo un attimo sul calcio giocato Archiviato Spal Bologna si riparte contro l'Atalanta Sì anche se secondo me dovremmo portare la rabbia della sconfitta nel derby per cercare di riversarla in questa partita che sarà complicata dura contro un avversario europeo perché l'Atalanta ha dimostrato che sarà un'avversario di livello europeo quindi molto difficile per noi in queste due stagioni vincere questo tipo di partite però dobbiamo portarci dentro la rabbia e la delusione della sconfitta nel derby per far sì di riprenderci i punti che abbiamo lasciato per strada e andiamo ad ora sulle pagine del QS Sport l'inserto sportivo del QN Davide per sempre ricordo ancora di Davide Astori Antonioni da capitano a capitano una persona speciale mi rivedevo in lui il racconto il massaggiatore così ho trovato Astori senza vita e poi aperto un fascicolo dobbiamo fugare ogni dubbio dice la procura recuperi si giocheranno il 3-4 aprile il sospeso in sospeso invece il derby Malagò cambia ancora dalla prima pagina del QS mercato corto e la Serie A a Santo Stefano poi si parla del Bologna calcio dopo il K.O. con la spalla patron saputo prova a scuotere il Bologna Poli fuori per due gare Verdi all'influenza l'amministratore delegato Fenucci era a Milano per la riunione di Lega il Cermen ha parlato a lungo con il DS Bigone il club manager di Vaio la Fortitudo prepara la riscossa dopo la batosta di Coppa Italia che Boniccioli voleva assolutamente vincere aveva anche dichiarato che la Fortitudo era assolutamente favorita così non è stato a Bergamo giovedì vale la vetta e poi Virtus doppio ritorno all'Unipol Arena si gioca i playoff e Wild Card in Europa la Vunera che guarda al futuro ma andiamo proprio nelle pagine del Bologna c'è il Bologna da sistemare saputo fare consultazioni a pranzo con Bigone e di Vaio per capire gli alti e bassi è iniziata la mise e la squadra di Montréal è stata sconfitta 2-1 a Vancouver a segno mancoso e poi ancora si parla appunto della Diffin Fenucci assente per la riunione di Lega l'ex bomber ammette contro la Spal sbagliato l'approccio ora fuori la rabbia con l'Atalanta la morte di Astoria ha lasciato il segno soprattutto nei giocatori che sono stati i suoi compagni questo è il ricordo di Di Vaio che avete appena sentito nell'intervista rilasciata al nostro Mario Giuliant e poi Poli salta le due partenze anche Verdi si ferma serie di guai per Donadoni l'ex binanista deve guarire dal problema al polpaccio il numero 9 è a letto con l'influenza questo è ancora il quadro che ci propone il quotidiano il QS Sport allora arrivate il momento di fare il nostro break pubblicitario lo facciamo tra poco torneremo insieme per la nostra rassegna stampa quotidiani locali uno sguardo a quelli nazionali ancora i dati elettorali ormai definitivi chi è dentro e chi è fuori cosa succederà questo non lo sappiamo insomma intanto grazie per aver scelto Nettuno TV per iniziare la vostra giornata questo martedì 6 marzo 2018 vi ricordo che a partire da domani durante la rassegna stampa nell'edizione del telegiornale del pranzo 13 e 15 avremo e vi proporremo una riflessione che l'arcivescovo di Bologna ha voluto dedicare a voi in modo particolare telespettatori di Nettuno TV riflessioni in questo tempo della quaresima e quindi avremo pochi minuti davvero delle vere e proprie pillole di tre minuti dove l'arcivescovo ci aiuta e ci guida in questo cammino quaresimale che ci porta verso la Pasqua quindi ricordo per 4 mercoledì di seguito il primo sarà domani quindi vi invito davvero a non perdervi questo bellissimo appuntamento e questa dedica che l'arcivescovo di Bologna ha voluto fare ai bolognesi proprio attraverso Nettuno TV ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco nuovamente insieme e beh come dire state con noi